Quando abbiamo saputo che TEDx sarebbe arrivato a Bergamo ovviamente abbiamo sostenuto con piacere ma in maniera molto concreta abbiamo visto l'impegno che le decine e decine di ragazzi volontari che ci lavorano diciamo al suo interno riescono a svolgere con tanta dedizione e tanta passione tra me un pensiero che mi ha portato subito alla nostra realtà aziendale quindi i nostri spazi sia fisici che virtuali perché adesso collaboriamo anche spesso da remoto e l'ho legato molto alle persone in mmn lavorano una serie di colleghi uomini donne giovani meno giovani tutti accomunati da una storia di passione e lo dico seriamente legata in qualche modo alla tecnologia Bergamo Brescia capitali della cultura si può fare si può fare ormai sono passati un po di mesi ne abbiamo ne abbiamo l'evidenza mi piacerebbe diventasse veramente un territorio valorizzato dal punto di vista dell'innovazione degli studi della della cultura dei dei giovani